Oggi con estrema gioia, non è vero, parleremo di chi è in grado di trasformare questo in questo e lo facciamo per dovere d'informazione, perché in strada esiste anche questo movimento artistico. Che ha detta di uno dei suoi artisti di spicco, quello che faccio è trovare oggetti unici, come un tombino, un idrante, dei tubi, e renderli oggetti unici. Sono parole di Tom Bob, artista new yorkese, in grado di cambiare il panorama urbano. E il Broski non può far a meno di parlarne, perché comunque sono tutte opere spontanee e di natura vandalica. E se è vero che la street art è la forma d'arte più democratica al mondo, perché non bisogna entrare in un museo per vederla, allora anche il buon Tom ha diritto di esserci. Buonanotte da Broski!